Chiedo un milione di volte scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte Con queste parole, Ida Platano ha finalmente rotto il silenzio, mandando in subbuglio i suoi fan di Uomini e Donne Uomini e Donne. Ida Platano rompe il silenzio. L'attronista, alle prese con decisioni complicate, ha svelato parte dei suoi tormenti attraverso un messaggio pubblicato su Instagram Ida Platano, protagonista del popolare dating show condotto da Maria De Filippi, sembra attraversare un momento di incertezza e confusione Le voci che circolavano su un possibile riavvicinamento con il corteggiatore Mario si scontrano con altre indiscrezioni che lasciano poco spazio all'ottimismo L'annuncio di Ida, permeato di un senso di colpa e di rimorso, lascia intendere che un epilogo definitivo potrebbe essere imminente Continua dopo la foto. Le parole di Ida. Cariche di emotività e autocritica. Hanno suscitato preoccupazione tra i telespettatori che seguono con fervore le vicende del programma L'attronista sembra fare i conti con le sue scelte passate. Mostrandosi consapevole di aver accettato compromessi che potrebbero ora costarle caro Ida Platano chiede scusa dopo il caos. La possibilità che Ida possa abbandonare definitivamente il programma è sempre più concreta Alimentata dai recenti rumor che la danno come possibile eliminata senza appello Se così fosse, Ida Platano dovrebbe dire addio non solo al dating show, ma anche alle sue speranze di trovare l'amore Continua dopo la foto. Per i fan di Uomini e Donne non resta che attendere ansiosamente le prossime registrazioni per scoprire il destino di Ida Platano L'attronista sembra essere sull'orlo di una decisione che potrebbe cambiarle la vita. E il pubblico resta in trepidante attesa di conoscere quale sarà il suo prossimo passo Continua dopo la foto. L'annuncio di Ida Platano ha scosso l'universo di Uomini e Donne Aggiungendo un capitolo di tensione e incertezza alla sua storia nel programma Resta da vedere quale sarà il suo destino finale e se riuscirà a trovare la serenità e l'amore tanto agognati Produe, il suo destino finale e la opinione di Ida Platano ha scosso l'universo di Resta da ora Resta da vedere quale sarà il nostro destino finale e il nostro destino finale e il suo destino finale e il suo destino finale è che ha scosso l'universo di Resta da vi spezia